Una delle novità più attese di Francoforte è il prototipo della SUV Maserati, primo esempio in tal senso per la casa del tridente. La base di partenza è quella della Jeep Grand Cirocchi, ma qui traspare tutto lo spirito che da sempre contraddistingue le GT modenesi. L'augurio di tutti è che questa grintosa Sport Utility con motore V8 possa presto diventare realtà e fare concorrenza a Porsche Cayenne, BMW X6 e compagnia bella. Per tornare alla realtà, niente di meglio che il rombo del V8 da 439 cavalli della Maserati Grand Cabrio Fendi, versione griffata che sfoggia pellami speciali, dettagli d'argento e lavorazioni artigianali dalla nota casa di moda italiana.